In questi mesi si è molto ragionato di scuola. È stato un tema centrale per i ragazzi, per i docenti, per gli ambienti. Io non voglio entrare nel merito delle scelte scuola aperta, scuola chiusa. Vorrei parlare un attimo dei ragazzi, perché tra i 6 e i 12 anni, i ragazzi, al di là dell'aspetto didattico che è fondamentale, sviluppano tante altre cose attraverso il percorso scolastico. Penso alla mente educata, alla disciplina, rispetto delle regole, oppure semplicemente lo stimolo della curiosità, quanto è importante. Ecco, la scuola è fondamentale per i nostri ragazzi, allora dovremo occuparcene. Naturalmente questo quesito l'ho fatto nelle sedi opportune, ma volevo farlo con voi e condividerlo con voi a voce alta. Il governo, con i Recovery Fund, ha messo, almeno dalle prime bozze a disposizione, una cifra importante per l'istruzione e la formazione. Beh, però occupiamoci dei nostri ragazzi per capire come farli venire fuori da questo trauma che hanno subito. è iniziato a febbraio-marzo e poi è continuato nel tempo. E allora la didattica è fondamentale, ma occupiamoci anche di questa carenza che hanno avuto i ragazzi, capire come li possiamo far venire fuori, come possiamo guidarli. Forse devono parlarne del trauma, beh, insomma, le soluzioni sono tante, ma occupiamocene insieme. Grazie. Grazie.